Ciao ragazzi, come state? Spero bene. Allora, prima di tutto, inizio già con le scuse. Tra il mio auricolare che ho sbagliato a prendere, ed è quello che io ascolto di notte, quindi si attorciglia tutto. Tra l'orario, perché io vi avevo promesso che dopo cena sul mio canale ci sarebbe stato questo scendello. Allora, in realtà sono parecchie ore che sono qua a farlo, perché intanto uno scende al troppo, basta. E pensate che ho fatto l'ultima prova, poi l'ho dovuta stoppare, perché in pratica io devo ancora mangiare. E mi aveva fatto la spesa mia mamma oggi, e mi aveva fatto risotto per... Perché, giustamente, ho lavorato fino a tardi, e come vedete sempre, la massa di fatture, purtroppo, anche in questo periodo, avendo questi problemi ormai, che si sanno, quindi sì, che dormo tre ore, ma in realtà non le dormo, perché faccio le notte in questi fatture, e lei insomma ha detto che faccio risotto, risotto sono andata a prenderlo adesso, ma... Non c'erò le 11, quella non è assolutamente un problema. La mia ansierà più che altre volte verso voi, perché sono le 22.42, ovvero vedrete chi sta sveglio fino ai 4 di notte, o domani. Quindi, visto che dice Intel, trattasi, direi subito di partire, perché vedrò se riuscire a mostrarvi tutti i prodotti, o se invece dividerlo, e utilizzarli magari in un roleplay, vediamo un attimo, no? Quindi, se senti i miei soliti rumori, mi so facevi, sono dovuti al fatto che io dovrei in realtà mangiare a degli orari che non faccio, perché sono un po' così, comunque, non sono... sono cattiva con me stessa. Allora, iniziamo subito, perché se no qua non veniamo più. Vi faccio... i miei vici già sono lunghissimi, mi dispiace, ma questo potrebbe essere interminabile, perché dato che ho avuto questi buoni omaggio da Amazon, dove io acquisto, mi sono dato allo shop compulsivo. Si sa? Allora, io direi, direi di partire con un primo radicolo che cerco io. Cerco di... ho già cercato di togliere qualcosa da rascato per non fare troppo rumore, proprio di pazienza. Anche rumori esteri. Prima cosa che vi mostro è la mia piccola palette. Allora, diciamo che in realtà, cosa succede? Succede che io non ho dei punti di poco sapone, oppure l'OPS, e me ne ho ancora vado in quei posti, perché, come sapete, sono ancora fobica, quindi, niente. Però non sono più interessata a quello che mi colpisce, l'occhio. Ho preso questa palette AltiVin, che adesso ve la mostro. E l'ho presa da Amazon. Mi sono scritti i prezzi, perché purtroppo non ci sono i prezzi attaccati. Cioè, io ho tutto fatturato nel mio account, quindi vi dirò. Allora, questa palette, che si chiama Palette Slag Makeup AltiVin, iShout, l'ho pagata 8,79 euro. E adesso vi mostro, perché sono un po' dei colori, colori caldi, che mi piacciono a me, colori illiterati. Guardate l'effetto. Scusate. Allora, la palette, come vedete, se vedete, ecco da qua la vedete, è Slag. E l'ho presa, dopo che ne avevo sbagliata una. Proprio perché non amo i colori molto accesi su di me. Già che non ho usato tanti ombretti, ma visto che ho preso tutti questi pennelli da sfumatore, mi hanno colpita. E quindi, la palette si apre così. Ci ho già messo reddita da dentro. Qua praticamente me li deco, perché ci sono tutti i nomi delle palette. Cioè, mi è caduto qualcosa. Per esempio, per esempio, devo mettermi gli occhiali per prima cosa, perché a partire che scrivo in modo decente, non solo per il T9, ma anche perché vita oculistica, tanto per non farci mancare nulla, ci sono dei problemi. Questo perché ha sbagliato l'optometrista a dichiarare una presbiliopia quando io sono ipermetro per perfetto. E quindi mi dà fastidio anche tutto da vicino. Comunque, lasciamo perdere per l'incontrario. Allora, per esempio, il primo, adesso ve lo mostro, si chiama In InnoSense. Perché questo qua, con il bianco, quella della palette, è formata così. Ve li swatcho poi i colori. Allora, qua, c'è lo specchio. E questi sono i colori. Allora, c'è il bianco, vant. Vedete, vedete. Spettate. Sono glitterati, cioè nel senso sono luminosi. Quindi, ogni, ognuna porta un nome. Vedete? anche tipo il grigio scuro. Sono bellissime a me. Sono piaciute veramente subito. E praticamente, quello che vi ho mostrato, lo chiamano game metal. Metallo. vabbè, vabbè, insomma, questa è la palette che friggiamo. E è molto carina. Di sette. Da questo center, vi piacciono i tappi. A parte, lo ci tolendo. Su quello che vi mostro, poi vi scrivete, però. Ok. Non metto dentro, così non facciamo rumore. Poi, sempre da, da Amazon, perché io compro da Amazon, appunto, ho preso questo, della, della L'Oreal, sempre. che c'è ancora la cosa che non ho staccato bene, però, se vedete, da vicino, oltre mi ditate, l'Oreal, ed è il rossetto che ho addosso, che non si vede bene, perché devo cambiare la webcam la prossima settimana, perché la Logitech praticamente il colore è questo. Io non vado tanto a colori estivi o cose, sono i colori che piacciono a me che mi trovo bene. E quindi, poi sono anche, secondo me, confezioni molto eleganti. appunto, questo qua, vediamo perché l'ho scritto. Allora, questo rossetto, non è della me, è L'Oreal Paris. Vediamo se trovo, sì, polvere, perché ho preso varie cose della L'Oreal. Ah, ok, si chiama L'Oreal Color Rich Matte 130 e l'ho pagato 9 euro e 63 che poi lo potete vedere da Amazon sui rossetti. Ora, discorso bio non bio, faccio solo una parentesi, la parentesi che faccio è questa, per quanto, diciamo, riguarda me, so che c'è la divisione tra bio e non bio. Chi fa questa scelta? Io, personalmente, prendo anche dei prodotti bio perché voglio sperimentare, però non mi, non mi mongo più di tanto dei problemi dei petrolati, problemi, quindi, paracine, vi dicendo, silicone, di medicone, vi dicendo, perché? Perché intanto, quando andiamo a parlare comunque, soprattutto, della pelle, dell'epidermi, vi dicendo, tutto tema, allora, quando parliamo di, di pelletto, è un pensare che la pelle luminosa, radiosa, sottomato, si cura dall'interno, quindi, con l'alimentazione, sia alimentazione è sbagliata, quindi, tipo, persone che non assumono, a parte di essere corretta, ma soprattutto della verdura, ha un significato molto importante per l'idrattazione, se abbiamo un'alimentazione sbagliata, si riflette sulla pelle, gli stili di vita, il fumo, si riflettono sulla pelle e non solo, e io prendo farmaci, perché non li posso fare a meno, questo, se poi andiamo a pensare quello che mangiamo, che di certo, a meno che non ci sono certe persone, ma oggi è difficile mangiare il biologico, alla fine, io dentro di me mi faccio questo discorso nella mia situazione, sono tutta chimica, non è che mettere il prodotto che non è più mi dà dei problemi, anzi, comunque una scelta è in base a quello che mi trovo bene io sulla mia pelle, perché a differenza dei problemi di pelle l'acne giovanile oppure vi è dicendo tante problematiche ma dai 40 anni si hanno problemi più situazioni di rughe, forse segni del tempo segni dell'età sostanze che si fanno aperte nei che creano tutte queste situazioni quindi prendetelo per rilassarvi non vi preoccupate c'è più non più allora parlando di più non più ho preso quest'altro è un balsamo balsamolabbra e fa parte della mia skin care comunque serale non lo trovavo più era fatto prima in tubicino morbido questo era migliore l'altro però comunque molto buono è della plantes come vedete è della plantes aceto ialuronico stick che labbra ed è fatto così è molto è molto buono come scusate c'è Leo che purtroppo anche se prende l'anziolitico non c'è niente da fare io l'anziolitico gli ho dato il veterinario e quindi dicevo un balsamo molto buono proprio tutto giorno ma poi ha una tenuta molto molto potente diciamo così molto consistente e insieme a questo che è questo qua questo l'ho pagato caro perché non è stato tutto da Amazon cioè era da Amazon però era un veditore terzo per cui questo l'ho pagato sui 11 euro 18 euro così perché c'erano anche le spese di spedizione perché questo costerebbe 5 euro un altro tanto tutti sti buono mangio è una parafermacia che me li ha venduti questo lo chiamano appunto bio lip care è un volumizzante labbra all'acido ialuronico ma questo proprio volumizzante non è un è un volumizzante l'impolpante non è il balsamo ed è fatto così vedete bio 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 lip care stasera se ti vuoi editare mi uccido allora questo quando ho parlato allora saluta come a tutti voi mariella bellena e ciao tesoro e li ho scoperti il bordone li ho scoperti proprio da lei nel lei faceva appunto un get red with me nel suo canale e da lei ho visto queste cose subito me le sono comprate molto intelligenti allora contouring per il contouring questo è della Maybelline Maybelline New York che me lo sono scritto tutto quanto l'ho pagato se non sbaglio perché ho pare cose della Maybelline allora palette come allora Maybelline no ecco allora si no comunque 7 euro 7-8 euro l'ho pagato io su Amazon questo senza spese di spedizione ora ve lo mostro ve lo switcho anche allora è così ed è composto da due colori chiaro proprio per fare il contouring quello chiaro che proprio è così e poi vedete e vedete che dall'altra parte c'è la parte scura che su di me non è che la vedete tanto ma questo questo è dovuto che io ho la carnagione molto scura però lo vedete comunque il colore che è scuro bianco è scuro e si fa molto beh è una cosa bellissima anche se io devo può usare magari metterci anche un blush scuro un elemento scuro perché non è troppo scuro non si può vedere e questo qua e questo qua penso che allora dunque allora non minerale è New York non è co ah sì è New York cofre stick 02 vaniglia l'ho pagato 5 euro con Amazon Prime perché se non avrei dovuto pagare tipo quasi 9 euro per la spesa di spedizione ma io ho un abbonamento quindi questo che tra parentesi prima mi è caduto ma io sono distratta che insieme alla paletta c'è questo pennello era convenientissima e carinissima poi sempre guardando che è bella nice lei ha consigliato questo questo che però adesso che vedrà a mia vita si accorgerà quello che dicevo perché in suo aveva una spugnetta e questo non ce l'ha perché l'ho preso dove lavora mia sorella in questo negozio di chic e beauty dato che lei lo sconto è 60% ma a me conviene comunque amazon ah no questo qua non è l'altro perché ho troppi ho troppi correttori questo l'ho preso io sempre della quella che mi ha consigliato marianna e della pupa allora questo è sempre della mepile è un correttore correttore cover slick ed è fatto così che è molto come vedete molto chiaro ma sempre marianna mi ha consigliato questo che mi fa impazzire penso che per chi soffre d'occhiaie forse tra questo e la vaniglia perché ho fatto un po' di casino perché questo qua è il è giusto il cover stick sì quindi il cover stick il cover stick 0.2 vaniglia 5 euro quello che vi ho mostrato questo va un pochettino sui 7 euro allora è fatto così come vedete io adesso ve lo apro e ve lo sfaccio sicuro si è detto ah vedete che è la spugnetta per le occhiaie guardate che roba sono a far così e poi si stende è meraviglioso posso fare anche qua che non è logico ma non so io dove si stende comunque tanto si si fa questo discorso è morbidissimo come vedete è esistente proprio una copertura e della mepili adesso della mepili qua non mi dice allora anti 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 esce istante eras per gli occhi per correttore ma che comunque si è digitato da correttore mepili vi esce questo tutti i correttori perché vi ho problemi di occhiaie allora ecco scusate cerco di fare il meno rumore possibile quello che diceva di Mariana era questo e così vi tracche non è che sono impazzita io perché lei diceva appunto che c'era una spugnetta ma ti ero prodotto che prende l'angolo che di solito è la parte più difficile ad andare a metterlo lì composizionalo lì e che lei l'ha trovato buono solo che non lo so erano due lotti strani perché io qua la spugnetta adesso ve la faccio vedere ma proprio non l'ho vista e questo ho detto non comprerò più perché l'ho pagato sui 14 euro questo sì che l'ho pagato con lo sconto perché ho preso questo è il primer della pupa e tutto faceva 29 euro così lo vedrai è così molto elegante la confezione pupa coper stick con c'è 001 quindi il pupa cover 001 e in pratica anche questo si alza ma come tra scaccia non c'è nessuna spugnetta quindi è buono anche questo adesso so che non vedete molto a causa della ed è fatto così è buono anche questo però meglio con la spugnetta io preferisco l'altro poi siamo a 25 minuti questo non so se ve l'ho fatto vedere ma mi è arrivato mi regalo informazioni di tester è della collister si chiama ombretto magico colore perfezione ed è quello che voi non vedete bene perché purtroppo sotto la camera fa schifo però è bellissimo vediamo dove potete vedere perché sono tutte implantate è un po' difficile allora vi stendo so che non è un posto per vedersi ma vedete poi si spalma e praticamente sparisce e bianco è bellissimo è veramente magico e su questo mi hanno detto che veniva sui 23 euro beh comunque la collista si pagano un po' le marche poi ho preso questa mattina a volte la vedete perché io ho fatto questi acquisti quando non registravo più video altro che andare in letarco andare in guerra veramente e e quindi mi serviva mi dovevo truccare dovevo provare e allora ho preso questa che è un puro bio questa matita puro bio infatti c'è scritto cosmetici biologici della cosmetica e della matita pur che si oltre a mettersi ovviamente all'interno della palpebra per ingrandire l'occhio si può fare leggermente fare proprio solo leggermente il contorno labbra perché mantenga più diciamo il contorno poi della matita stessa e sotto l'arco e questa qua effettivamente è questa ecco era 9,63 l'ho pagata 9,63 ora dirvi il numero se lo scrivessero le caratteri un po' più grandi comunque per chi fosse interessato poi ve lo scrivo perché adesso qua ho scritto così mi sembra che sia te l'ho scritto un po' professe da no me pilli lì stig eyeliner no ho scritto troppe cose ho fatto troppi questi e no non mi viene comunque non è non era proprio oggi l'ho pagata su 10 euro io dico l'ho pagata nel senso di scambio perché ho avuto questi buoni amaggio poi anche se io non uso questo rim l'ho voluto provare sempre della della L'Oreal mi sembra no della rim in me che si chiama volume flash mascara volume flash x10 e ha lo so scubolino così scubolino così però meno bocciato poi si iniziano i rumori cerco di togliere quello poi andiamo ho preso questo anche questo no questo è bio e l'ho visto sui miei capelli effettivamente e l'ho guinzato sempre su amazon adesso ve lo mostro l'ho guinzato sempre su amazon da una parafarmacia e praticamente vabbè perlino e me lo so scritto perché aveva troppe cose dottor shi 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 berlin e uno shampoo questo è uno shampoo l'arcan con jojoba e contiene aloe vera più pantenolo senza silicone costa 13 euro e 90 ma sono trattamenti proprio trattamenti nel senso proprio non che l'usi una volta ogni tanto l'usi tutti i giorni la martiri cioè l'usi quando ti lavi i capelli io non mi lavo i capelli tutti i giorni perché lavarsi i capelli tutti i giorni per me significherebbe a meno che uno non lavori in determinati posti come in ristorazione vi dicendo vai a togliere la protezione con il capelluto quindi uno shampoo che è l'olio d'arcan giociopa contiene l'oe vera più pantenolo non ha silicone contiene minerali essenziali vitamina B1 B2 B6 B12 C 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 B12 C C C C C quindi lavarmi e sentirmi lisci anche da balsamo e stirarli con una facilità estrema 13,99€ però ne basta veramente poco, non bisogna metterne tanto prendo un minuto e praticamente la situazione è questa allora mi serviva una maschera perché ero senza maschera a differenza come ho detto all'inizio più o non più, serviva una maschera, questa è all'argilla pura, allora in pratica per la recca ovviamente l'Oreal perché ho già preso da fare cose l'Oreal, l'Oreal Skinness per Paris novità che è una maschera che si chiama maschera detox argilla pura di tossina e illumina, ovviamente è detossicante l'argilla come spiammante di base in questa maschera argilla sono contenute tre argille minerali più il carbone che serve per l'illuminazione infatti leggo e dice scopri tre maschere viso della gamma argilla pura maschera purificante, purifica e opacizza, maschera detox, detossina e illumina maschera esfoliante, levica e restringe i pori ma come vedete è ancora tutta chiusa però aprirla adesso ho paura di fare un troppo rumore però ve la voglio mostrare che pazienza c'è qualcuno che mi ha detto di stare attento a scendere di non fare troppo rumore pura perché i centelle sono prodotti e quindi uno dice che li puoi spacchettare prima e questo è anche vero però non ho avuto tempo è così vedete andiamo a vedere com'è dentro cerco di fare il meno rumore possibile ok la confezione è così come un'altra crema che vi devo mostrare vedete argilla pura ragazzi il colore di questo è verde terrestre il colore dell'argilla vi dirò quando la proverò ma secondo me non mi deludere la colonna io questi pubblichiamo e questa qua proviene sempre dal sono 50 ml e questa qua è l'argilla mi paga mi paga che ve l'ho pagata sui 11 euro così vi dico il prezzo poi ve l'ho tirata fuori dalla scatola e voi dite ma ce l'hai con la c'è con la l'oreal sei pubblicizzato la l'oreal no e che mi è sempre mi è sempre piaciuta e poi soprattutto perché mi hanno fatto provare dei prodotti come ho detto io anche bio però per adesso dei trattamenti anti rucche comunque premetto che la crema anche semplice anti rucche non bisogna arrivare a 40 anni bisogna fare prevenzione prima anche perché come puoi vedere anche questa crema qua comunque che è l'acido ialuronico in pratica le rughe si formano sì per un'aptosi muscolare ma perché c'è una perdita di elasticità elasticità è la stina collage vi dicendo nata in una sostanza che si chiama acido ialuronico che è contenuto nei tessuti connettivi con il tempo questa sostanza va a tolnecceva a diminuirsi e quindi notato che va da riempimento riempie si formano poi le cosiddette rughe di espressione dei vari tipi di rughe e quindi questo questo più che una crema è un trattamento allora ve lo leggo è rivitalif filler all'acido ialuronico concentrato trattamento anti rughe notte scusate il cancello rivoluminizzante riempie le rughe da sonno che sono quelle quando uno si appoggia sul cuscino e quando si sveglia tutte le marcature e invece con queste tu ti alzi come tranquillo proprio no quindi rivoluminizzante riempie le rughe da sonno e ripristina i volumi acido ialuronico concentrato infatti dice l'acido ialuronico è un componente naturale della pelle la concentrazione diminuisce nel tempo appunto le rughe si segna le rughe si segna scusate ma che ci vedo male le guance si suotano e il volto per derrumere quello che vi spiegavo un po' prima con questi segni dell'antità alcune donne fanno ricorso dei trattamenti dermatologici ma altre preferiscono una soluzione cosmetica no? si per togliere le cosiddette rughe scusate le rughe di espressione ok che alla vanguardia scientifica alta concentrazione di acido ialuronico ripristina i volumi del viso altamente concentrato in acido ialuronico questa formula esclusiva riformulizza la pelle riempie le rughe arricchito con gallarca estratto vegetale anti rughe riempie le rughe e riporba la pelle per ridurre i segni creati dalla pressione sul cuscino durante la notte chiamate le rughe da sonno risultati visibili al primo risveglio la pelle è perfettamente idratata e appare più fresca in quattro settimane riduzione delle rughe sulla fronte meno 16% delle zampe di gallina meno 11% delle rughe naso-rabbiali meno 8% la pelle è ripolpata di zigomi rivolumizzati più il 21% i volumi del viso sono ripristinati i nostri pelle ritrovano i volumi della giovinezza azione infatti anche qua c'è scritto azione età è la texture c'è il crema ricco e non grasso infatti io l'ho provato e una cosa che dopo che l'ho finita lo ricompro perchè lo sto già utilizzando infatti vanno a partire dai 40 dai 40 ai 60 insomma e la crema cosiddetta è questa è una cosa meravigliosa quando la senti proprio a me piace da morire in pratica vedete che la sto usando è di violetta è un lilla praticamente ti senti veramente proprio io non per qualcosa ma mi vedo addirittura le zigomi soprattutto che ho la cicatrice e le zigomi più sollevati allora questa qua questa crema qua praticamente costerebbe 22 euro e su amazon ho preso a 18 euro 10 euro e 50 così creme c'è una fase di creme e non poteva mancare la mia c'era di cupra però però l'altra che avevo tante ho sentito si dice grassa dicendo si ma a me piace comunque se non devo uscire che la crema mi rimanga addosso perché mi tradi bene che poi non significa è un mio piacere però in realtà l'altra è tanto nutriente questa qua che la vedete è sul fiola adesso se la snosta così è gel di cupra pelle sensibili pelle sensibili pelle sensibili adesso che la mostra e questo l'ho pagato in sconto a 3 euro e 50 alle persone ed è questa e ha un profumo gradevolissimo proprio tutta c'era di cupra mi ricorda i profumi dei bambini no? tipo la mustela che una volta si usano si lavano ancora i bambini penso che li laveranno ancora li faranno ancora detersione con la mustela quindi pelle sensibili e oltretutto e oltre a essere così ha un effetto termo riequilibrante del firmetrolipidico della pelle quindi proprio buonissima poi vado veloce che siamo mamma mia 43 minuti l'ho tirato fuori mi sembra marina bella nice ho solo cambiato la marca ho detto ma dimmi te cosa hanno trovato siccome io mettermi le line sono impedita adesso stasera l'ho messo ma come sempre se mi trucco oggi faccio un casino però ho trovato proprio una cosa splendida che è questo qua l'hesting gel eyeliner che invece del pennellino l'ho tolto da qua e l'ho messo stasera perchè mariana quello non so se è della kiko mi sembra ma io la kiko non ce l'ha amazon e sempre ho provato quella della Maybelline infatti questo è Maybelline l'hesting gel eyeliner ho pagato 8,62 con pennello corpeso infatti se voi vedete c'è la bambina sotto in cordite mi spiace vedete così il pennello è formato da due step uno così e l'altra parte anche per sfumare è ovviamente così è una cosa meravigliosa per me si perchè la mattina non mi piaceva al line e non riuscivo a mettere normalmente chissà se riesco a farvi vedere tutto ma ho qualche problema ma ho qualche problema questo ok poi baby cream finalmente ho trovato la baby cream che prima usavo perchè perchè io purtroppo oltre per la pelle stessa ho il problema della cicatrice che devo nascondere ovvio che per quanto faccio devo essere rioperata quest'anno prima di quest'estate se ne voglio perchè mi hanno già operato quattro volte ma si è solgata perchè hanno ceduto ha ceduto un po' il tessuto muscolare da sotto un po' cosa insomma di sotto questa ungetto della mia pelle perchè è una pelle parecchio elastica mi ha detto che si è formata dove c'è praticamente un pochetto di sorriso nel senso che avevo un neo si è formato una giovane sotto dove l'hanno dovuto togliere ma non poteva togliere in modo circolare per cui hanno dovuto fare i lembi e niente ho fatto tre interventi questo è bravissimo ho provato tutto era è un amico del mio ex fidanzato chirurgo è bravissimo ma non è stata la colpa sua è proprio che è successo quindi devo fare tutto un sistema in faccia se avete dei consigli datemi per nascondere sta cavolo di cicatrice mi sento deturbata in un certo senso allora baby cream pupa questa è la baby cream cosa voglio baby cream più primer crema idratante ovviamente più primer spf 20 oil free quindi la 20 che deve essere un aspettate questo non l'ho aperta prima ok dunque è per pelle miste e grasse io non ho una pelle grassa o una pelle mista però mi fa giusto bene il colore è come se fosse un rosso è un sand è un 002 quindi di questa è la 002 della pupa così pupa baby cream primer 002 send il colore che vedete che mi hai detto lì adesso ve lo sorgio anche io ormai la mia mano però però non so se lo vedete ne dubito perché adesso troppe cose ma non si vede perché è praticamente del colore della mia mano perché io sono abbastanza scura di cartagione e questo qua è il pupa professional baby cream primer 002 send 11,78 forse ce la facciamo forse ce la facciamo penso che questo video o l'ho ascoltato tre volte o vi annoiate perché è lunghissima poi io sono amante dovete saperlo degli illuminanti infatti vi dovrò fare poi un quesito voi e l'orea io penso che non lo sto non mi stanno pagando per questo ma se qualcuno ascolta i video l'orea mi dovranno pagare perché ho comprato involontariamente tutta della l'orea ma perché non trovavo degli illuminanti questo è carino comunque allora si apre in due modi così poi vedete che c'è poi aprite facendo attenzione adesso ok guardate per farvelo vedere uso l'altra mano facciamo così va però non so se lo vedete poi aspettate su una mia mano è un illuminante è un polvere un po' difficile da vederla comunque comunque vedete che è questo colore qua e per chi non ha il pennellino va lo tantacca anche se vi voglio chiedere se riconoscete questo perché era anche quello un tester penso che sia della popo quindi state attenti scusate state attenti a questo perché io vado matta per questo illuminante penso che sia della popo mi è rimasto mamma mia mi è rimasto questo qua ditemi se voi lo riconoscete se è della popo perché guardate che roba e una cosa bellissima adesso qua non si vede ma è una giusta lampada però ve lo faccio vedere da vicino dovrebbe essere della popa che cercate di capire perché io ne ho bisogno di questo bellissimo ed è quello che tra virgolette ho vedete un po' ce l'ho sul viso quindi qua nella parte così che vedete illuminata è questo cioè oltre a quell'altro io non lo indieterò stasera perché comunque lo so dovevo mettere il panno ma è ho fatto tutto e voi guardate che ora che ho fatto è una cosa incredibile vado avanti ve li ricordavate che ho preso tutti i pennelli perché adesso li ho messi momentaneamente in questa tazza no? e quindi c'è il pennello quello grande c'è quello da conturi poi ci sono i vari pennelli delle sfumature come vedete ormai mi è presa la fissa poi io sono un po' compulsiva e quando mi attacco una cosa niente e sono iniziata da compulsivo no lo sciampi compulsivo fermatemi e allora questi sono dentro il sacchetto mi parerò fare lisciamente e il più silenzioso allora questo è il polvere questo per i polveri diciamo che va bene anche a stendere il però in uso questo qua stendere il o il make up o anche quello della poppa perché non mi ci vedete adesso ve li faccio vedere questo è dove praticamente lavoro mia sorella chic è più di vedete profumi e benessere sì allora perché ho preso queste che però le ho tolte dalla plastica almeno le blender una nera una piccolina che è più fucsia ed era fucsia anche questa solo che ho poi utilizzata che era in pratica in questa scatolina qua che ho pagato tipo euro e cinquanta sempre lì allo stesso punto allora e prima di questo vi faccio vedere che ho preso quello della poppa da mia sorella e anche pompa primer che è fatto semplicemente 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 così non so se lo vedete ok 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 e e va bene i pentili lo normale colore questo quindi già piacevole che comunque mi conviene amazon allora tanto adesso non devo bruciare niente spero di non li tolgo perché mi fa andare fastidio agli occhi tutto il giorno che allora questo qua altri pennelli che appunto dicevo usavo il blender un pochino di tampono e poi io lo stendo proprio con questo pennello qua fatto così poi altri pennelli come questo per le polvere minerali sono morbidissimi vedete vedete magari non so vi dà l'impressione che sia più rigido ma sono morbidissimi anche per estendere anche per il fald c'è questo modello qua tutto dritto e si chiama Apple D sinceramente non lo so quello poi c'era questo che ho usato come vedete per per i blush che è formato così e poi ci sono tutti dentro il pennello il pennello il pennello sono impazzita e allora allora il siccome l'ho fatto parecchie volte sto video non so più cosa vi ho fatto vedere se rossetto forse non vi ho fatto vedere allora se no ve l'ho fatto vedere vi chiedo scusa comunque il colore è sempre della sempre della l'olio ed è un adesso senza gli occhiali ma comunque è un 130 130 ma meno male che l'ho scritto 130 si chiama Orea Colore Matte perché è un matte ed è quello che addosso non vedete bene adesso ve lo sconcio in pratica il colore è questo lo vedete più da lontano è bellissimo proprio un bel matte e questo l'ho pagato 9 ore 63 ok poi 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 c'era questo però questo me l'hanno regalato che è della non so ed è anche un bel rosso vi suoccio anche questo questo però rimane un pochettino più rucido come vedete ed è più scuro bello è anche questo allora mi rimangono fuori eh sono 59 da un'ora di video pazzesco ma non mi uccidete questa ovviamente lo sapete non è bio ma è il giardino di essenze l'orchidea che piace di più a me è una cosa particolare è una crema corpo ma vi dico che se ve la mettete sulle mani e andate in giro vi chiedono che profumo avete perché è proprio una cosa bellissima ed è 200 250 ml questa me l'hanno regalata però tipo che ai supermercati paghi pochissimo cioè tipo 2,50 cose anche perché ci sono le offerte poi ho preso queste sette di matite dodici matite sono eh queste dodici matite le ho impagate allora la non minera il polvere fate ricorda ah l'avevo scritto non me la trovo più non me la trovo di più avevo scritto sopra però non me la trovo più comunque sui 9 Euro però contro i 12 matite di tutto i colori vedete spero Poi vi chiederete Ma Barbara non è ancora finito No Vabbè ve la faccio vedere Solo da fuori Poi ho preso questa Gli alfitrossiagidi Della frutta con vitamine Come vedete Arangemoniche Si dicono senza parabeni Comunque Non è una crema bio Perché Ovviamente ci sono i petrolati Quindi E' così Ma è boggiata perché proprio Quando la metti Ti sembra altro che lì Ti tira tutta la pelle Quindi l'ho Poi ho preso Anzi No Questi mi hanno regalato Il video brush Di Crystal Dior Molto bello Perché Ha un colore molto bello Insomma Aiuto Poi vi avevano mandato Questo Della poppa Che È la poppa Active Light Foundation Numero È il 090 È troppo scuro Per me Io non uso Stico Scusi E quindi Insomma Però questo è un reso Infatti Li voglio portare indietro Perché si è rotto Il tappo Nella spedizione Anche se io ho un altro tappo Uguale da sostituirlo Ma È praticamente Questo qua Vedete Però è un attivatore di luce Infatti l'avevo preso Apposto Perché l'avevo provato Della poppa C'è questo E poi c'è quello Che se leggete voi Non so se riuscite a vedere È un attivatore Si chiama Sotto c'è scritto Attivatore di luce Fondotinta di fattore di luce Però vedete Che qua Si è Spaccato Questi sono i venditori Terzi Che insomma Intanto mi dimenticherò Sempre Un pezzo E in ultimo Facciamo così Ho tenuto la scatola E ho preso questo qua Per avere Averne uno chiaro Quando faccio un altro trucco Così Questo genere E questo è Sempre della Mepilim Che è già volto E lo super stai 24 ore E pesce Questo qua Come vedete Saluce E questo Anche questo Su Io ho due euro Così Però tanto Con i buoni omaggio Sono andata avanti Insomma ragazzi Non so come chiedervi scusa Io ho fatto un'ora di evitio Un'ora e cinque E purtroppo Di viterli Era un Un problema Magari poi Li utilizzerò Anche nei roleplay Oltre che Li utilizzo Io Mi dimentico Sempre Qualcosa Allora Sono le 23.45 Io adesso Lo mando in pubblicazione E mi sa Che lo vedrete Dormani Perdonatemi Perdonatemi Tu serio E purtroppo E così Ho dovuto Lavorare Anche quando Vi ho scritto Su Instagram A proposito Su Instagram Anche se Non sono Sono entrata Oggi Ho iniziato A capirci qualcosa Sono messa Come Lea L'ho Ma idea Voi mi vedete La foto Vedete la foto Anche di Milda Di Leo Perché ci ho messo Quelle tre fotine Allora Guardate sempre Nell'infobox Che io vi metto Tutto in descrizione Il mio indirizzo Di facebook Quindi che sarebbe facebook Dovete scrivere facebook.com Slash Lea Medea 75 Appunto Comunque Tutto scritto lì Anche il mio indirizzo Del canale Di youtube Insomma Tutto quanto Purtroppo Stasera Mi spiaggia un sacco Che O non ho fatto Queste favorine Ma Di sicuro Se non riesco A farle Adesso Perché Dovrei poter mangiare Se non riesco A farle Adesso Le farò domani Io spero Anche perché Oppure Ve ne faccio Stasera Domani Solo per questa settimana Perché devo andare Un po' più Pianino Ecco La mia situazione Faccio Se riesco Un altro video E in quel video Vi faccio Tutti I salutini Quindi Tutti quelli di facebook Tutti quelli di youtube Tutti che mi commentate E i colleghi Comunque adesso Si riesce a capire Un po' Perché tutti Siamo colleghi Sappiamo il tempo Che abbiamo E vorrei solo Fare Un'ultima Predizzazione Penso che L'ho scritto Anche su smr Italia Che io gesto Pochissimo E quindi Questo è Riferito Ai miei colleghi Che fanno i video Allora io adesso Veramente tempo Non ne ho Quindi come tutti E anche come loro Si mettono i like Premesso Che io Ti saluto Tutti Anche Vado a andare Come Quanto Posso Tutto Quanto Però Io quando Dico Nessuno Se la prenda Perché Io purtroppo Ho un brutto Carattere Io ho un carattere Della sincerità Di conseguenza Se Mi si fa Un video In soft Spoken Ed in sound Cioè Quei trick Che a me Non mi piacciono Assolutamente Ed in sound Soft Spoken Normal voice Soft voice Io Per Il commento Non lo metto Perché Direi una cosa Non vera Non mi piacciono Non mi piacciono Non mi piacciono Ma Sono colleghi Quindi capisco Che Bisogna Accontentare Tutti Quello Si E Di conseguenza Non volevo Solo dire questo Perché poi Magari Si captano Dalle cose Che non sono Quella Anche poi Ma come mai No Non vanno No E perché Non mi piacciono Il video O meglio Io ascolto La voce Perché io L'ascolto Non da youtuber Come ho detto Ma da utente Quando vado Quanto Perché Scusa Andare a dormire Ho bisogno Di Essere aiutata Cioè Di rilassarmi E quello Non mi rilassa A me Mi rilassano Se mi rilassano Il whisper Il whispery Che non ascolto Il tappi Però se parlato Magari mi Volte il rumore Il tappi Lo posso A me Tutto voce Tutto voce Quindi Pillow talk Roleplay Tutto quello Quindi Premessa Che questo È il mio discorso Premessa Che in questo periodo Sono Da Da urlo Ma non c'è problema Quindi Spero che Non lo so Non Non ce n'aviate con me Perché ci ho ficato 1 ora e 10 Però Del resto Non vi devo Nervosire Quando faccio i video So che ho troppo Un video lungo Quindi non so Ascoltate Vero pezzi Per le favolette Vediamo Se riesco Stasera Perché Per me Era importante Domani Però Se riesco Anche se Almeno registrarlo Ecco Da fra domani Allora Mie curi dolci Io Vi ringrazio Veramente Di cuore Ringrazio Quelli che Continuano a iscriversi Grazie Ringrazio I visitatori Che mi vengono Ad ascoltare A voi Che mi state vicino Adesso Che ci scriviamo Interagiamo Con Instagram E Tra l'altro Permettetemi Manto un bacio E cate Ciao E cate Grazie Perché insieme a Yuri Yuri mi ha scritto Anche A te Yuri Mi hanno scritto Come Interagire con Instagram Proprio impedita E oggi E oggi si parlava Così Avevo la via Diretta Con E cate Che mi ha Aiutato A Entrare E quindi Ci possiamo Tra una fattura E l'altra Io vi scrivo Io vi mando Allora Tanti 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 Pagini Promesso Che seguirò La lista Perché tolto Queste favolette Che poi capirete C'è la lista Che vi ho detto Nell'ultimo video Nel programma De 2017 Quindi penso Che vi auguro Vi auguro Un buon pomeriggio Oppure una buon notte Se non dormite Però non so Perché A che ora Si pubblicherà Adesso Vi diamo un po' Pagini A pregini E Non vi fate Mordere Dalle pulcette Ciao Ciao ragazzi Ciao